Basta soldi pubblici per all'Italia, disse l'allora ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda nel 2017, all'indomani dell'ennesimo commissariamento del vettore, denunciando che per tenere in vita la compagnia di bandiera i contribuenti avevano già sborsato oltre 8 miliardi. Qualche mese fa a Cernobbio il leader di azione ha riproposto la sua indignazione aggiornando la cifra. Il salasso per la fiscalità generale sarebbe salito a 11 miliardi. In realtà l'esborso complessivo è ben più alto, anche perché lo stesso governo di cui Calenda era ministro erogò un bel prestito ponte mai restituito di 900 milioni e secondo i calcoli di Mediobanca il salasso nel 2017 aveva già superato i 10 miliardi. Se a questo aggiungiamo gli 1,3 miliardi stanziati dal governo Conte per capitalizzare la nuova Ita Airways, il totale secondo stime complicate da fare sfiorerebbe oggi 14 miliardi di euro. Il risultato è storia di questi mesi, una trattativa per la privatizzazione che neanche Super Mario Draghi è riuscito a condurre in porto, infinita e piena di intoppi. Nel frattempo nel CDA se le sono date di santa ragione, sei consiglieri si sono dimessi in polemica con alcune scelte aziendali e, con l'appoggio dell'AD e dell'azionista Tesoro, hanno sfiduciato il presidente della compagnia Alfredo Altavilla, accusato di aver sgambettato una delle cordate in pista e di aver speso un sacco di soldi in consulenze. Non solo. Stando alle ricostruzioni della D. Fabio Lazzerini, Altavilla la scorsa estate avrebbe addirittura preteso la sostituzione di un Airbus diretto verso la Sardegna con un modello più capiente, solitamente usato per le tratte intercontinentali, per fare spazio ad amici e parenti bisognosi di una vacanza al mare. Ora, al posto di Altavilla, che ovviamente ha già avviato una guerra legale, c'è Antonino Turicchi, chiamato dal nuovo governo a gestire la vendita, ma la situazione resta a dir poco fumosa. Annullata l'esclusiva per certare, il nuovo governo ha riaperto la trattativa per la vendita, lasciando Lufthansa a giocare il ruolo dell'ultima spiaggia. In questo clima di totale incertezza, la risposta della ex compagnia di bandiera è tirare avanti come se nulla fosse. Qualche giorno fa la società ha annunciato non solo il nuovo volo Roma-Nuova-Deli e quello per le Maldive, ma anche il via libera alla prima fase del piano occupazionale, con la previsione di oltre 1200 assunzioni il prossimo anno tra assistenti di volo, piloti e comandanti. Si tratta sicuramente di una buona notizia per tutto il personale della ex Alitalia rimasto fuori dal primo parsimonioso reclutamento di Ita. Resta da capire chi è che alla fine pagherà lo stipendio. Grazie. Grazie. Grazie.